Oh Oh Baby I'm afraid of you tonight Punch you down, eat you alive Just like animals Animals, like animals Benvenuti ragazzi della prossima Ciao qui scendo qui sul nuovo video Molto diverso dal solito perchè come vedete Siamo su Steam perchè voi non sapete Cosa è successo raga Tipo un giorno, cioè l'altro giorno Vado su CS Faccio una partita competitiva, vinco E trovo una Una Spectrum case Ho visto che vale tipo 1,50€ a venderla, adesso vi dico Proprio in live quanto costa Cerca, no aspetta, Spectrum case 1,50€ siccome vedete E ho detto la vendo che faccio 1,50€ La vedi niente, poi ho detto Ero su Discord con maffone Come vedete qua, questo qua E' il nostro Discord, se devo entrare In descrizione, volevo entrare Su questo Discord, cioè volevo entrare Cioè ero con maffone Cioè ho detto anche Smerma Aspetta dai provo a shopparmi la Kay L'ho shoppata E voi non sapete cosa ho trovato Ho trovato questo Vediamo su carica Vabbè 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 La VpFaver Dream Vale dai 15 Cioè rimuovere a 18€ poi 20 Cioè dipende, vale dai 15 ai 20€ Quindi Non è neanche schifosissimo Ho chiestato sul campo Quindi All'inizio volevo venderlo Perché ho detto dai mi faccio questi 20€ 18€ quello che sono E dopo Basta E la VpF E ho detto Vabbè lo vendo in caso Solo se ne ho bisogno Diciamo Solo se non mi piace Ti vuole comprarne tipo uno nuovo E quindi tipo E' una sfida assurda questo Vp Adesso vi faccio vedere su CS Tanto che si apre Cioè intanto Adesso si apre E taglierò questa parte Perché ci vorranno anni e anni Secoli e secoli Ok ragazzi Siamo tornati Mi sono giocchi in finestra Perché sennò Non vi faceva vedere Andiamo su inventario Poi Inventario, inventario Poi Poi Eccolo qua Esamina Come vedete E' un'affidata assurda questa Vp Cioè Se avete questi 18€ Su 17€ Spendere Vi consiglio di comprarli di questo Perché Diciamo che Quali Cioè Come Skinner E' molto bella E non costa Esageratamente Quindi Vabbè Questo video era solo per dirvi Quattro Questa affidata Poi Ci sono queste Questa skin Questa skin che dovevo usare Le dance perché E' un paccagno Scalmio roti vecchi Che Non so se vendere o no Che comunque Non è schifoso Cioè E' bello Come vedete Ma se vedete Anche più rovinato questo tipo qua Ecco Che dovevo Che è Anche più scolto Che tutti conti però Questa è una block Che La adoro E A bere questo al mio inventario Alla fine E Basta Se il video vi è piaciuto Lasciate il like Iscrivetevi al canale Anche se è durato 5 minuti 6 minuti Non mi importa Perché voglio solo dirvi questo E Da oggi è che è tutto Bella